Cari Dio Giovanni di Arbatax, beh c'è poco da dire, prima mancavano e la vita avevo, dopo è stata una rinascita, hai ripreso a mangiare, sorriso e tante altre cose, ringraziando il signore o te, comunque è andata, dottor Palmas, ringraziando il dottor Palmas, dai, grazie a Dio è andata bene. I problemi li ho risolti perché da non averli i denti, grazie a Dio ho l'arcata, un'arcata e mezzo che funziona bene, dunque mi posso classificare contento, però me ne torno a casa contento, dai, perché ci sono e grazie a Dio va bene. No, il primo giorno che è stata un po' dura, la prima notte, perché certo sai, il getto del sangue, però diciamo dal secondo giorno, poi bruttino è stato, normale a tutti, che i primi giorni ho dovuto mangiare in minestrina è normale, però dopo una settimana abbiamo ripreso a, grazie a Dio, no, no, su quell'atto lì è andata bene. Un anno e sì, montati noi definitivi da un anno e mezzo, benissimo. L'arcata superiore non c'è da dire nulla, l'arcata superiore non c'è stata perché il lavoro è stato di meno, non è stata dell'arcata completa, dunque non facendo l'arcata completa c'è stato un problema su un impianto, no, sì, quella subito, sì, quella grazie a Dio dopo un po' non mi ha dato più problemi, sì, su quello pensavo peggio e invece sono stato, poi una volta che mangi e sei fiero, sei contento masticando, cioè i denti nuovi vuol dire una masticazione giusta, boh, quella, e poi ovviamente il sorriso, quello subito dopo. Grazie.